I piloti della seconda divisione, vetture fino a 1800 cm3 con Marcello Molari davanti a tutti con la sua Honda Civic, parte Marcello. Problemi di cambio subito per Marcello Molari, attenzione colpo di scena, Giuliano Bacchi intanto parte, Manuel Barzon, Erika Cannella, Andrea Vanzo ecco Marcello Molari, Marcello Molari fermo lungo il percorso, subito neanche la partenza per lui subito problemi e il cambio, vediamo che sta togliendo il casco all'interno della vettura sta abbandonando la sua Honda mentre arrivano già i piloti dopo il primo giro, peccato protagonista Marcello di questa divisione e dà possibilità agli altri piloti di portare a casa un bel risultato, passa De Marchi, passa Bacchin, Bacchin terzo la domenica del 5 ottobre a Fossò, ora anche un'opportunità per Erika Cannella e Andrea Vanzo chiude il gruppo, attenzione anche problemi, c'è una curva molto brutta e molto difficile prima del tornante della zona dei box ecco ancora un passaggio per Davide De Marchi, Giuliano Bacchine con la sua Peugeot 1006 Giuliano è uno dei decani di questa categoria ma anche un po' di tutto il campionato, ora Erika sta resistendo molto bene dietro a chiudere il gruppo Andrea Vanzo con un po' di ritardo siamo ormai agli ultimi fasi di questa finale della seconda divisione, oggi c'è stato molto pubblico, ormai siamo un po' al tramonto quindi parecchie persone hanno abbandonato la zona di gara ma abbiamo avuto veramente tanto pubblico nella giornata odierna, c'è una bandiera gialla che segnala evidentemente qualche problema per piloti che non... ecco viene ripristinato il percorso, Solerte come sempre il personale di servizio è il commissario di percorso della Ruffato Formula, attenzione perché ormai siamo molto vicini alla conclusione della gara ancora un passaggio per Davide De Marchi che a questo punto può approfittare veramente della fermata di Marcello Molari, ecco Davide sta impegnando a fondo ora Giuliano Bacchin, molto spettacolare come sempre, rimane terza la posizione di Manuel Barzon, tutto sommato ci sembra in equilibrio anche anche Erika Cannella, dobbiamo sempre fare confronto con il rilevo cronometrico, due giri ancora al termine anche per Andrea Vanzo, ora invece vediamo, termina due giri, girato cartello quindi i piloti vedono un giro al termine, quindi ultimo giro per Davide De Marchi, attenzione sempre con piuttosto equilibrio con Giuliano Bacchin, ricordo che la classifica è in base al tempo quindi dobbiamo verificare la distanza, la differenza che c'è nei tempi, ecco Erika Cannella sembra sia andata molto bene, vediamo e vedremo se per lei sarà un'opportunità di podio ecco chiude questo gruppetto, Andrea Vanzo, bandiera scacchi invece per Davide De Marchi che chiude la sua gara Giuliano Bacchin all'ultima curva, chiude Giuliano, chiude anche Manuel Barzon, i piloti sono rimasti nelle stesse posizioni come erano, problemi proprio alla fine per sezione, problemi di cambio anche per problemi anche per Barzon di cambio, Erika Cannella che chiude la sua gara attendiamo Vanzo, sta arrivando là in fondo, eccolo l'ultima curva sotto la bandiera scacchi vediamo piloti fermi lungo il percorso, vedete ancora la vettura di Marcello Molari che non ha praticamente preso parte alla finale, ma vediamo ferma anche la vettura di Manuel Barzon che si è fermato e quindi presumibilmente ha avuto problemi, vediamo l'assistenza in pista di Max Racing, immediatamente entrare in pista sono fasi diciamo così interessanti anche queste perché fanno parte della gara, piloti che devono utilizzare il servizio di assistenza in pista proprio della Max Racing con Molari che verrà trainato, presumibilmente visto che è stato predisposto proprio il cavo del traino, ma vediamo anche vicino anche Barzon che evidentemente sta aspettando il suo turno, problemi proprio negli ultimi metri anche per Barzon, quindi piloti che ora dovranno rientrare in box con l'ausilio del servizio di assistenza in pista della Max Racing di Bacchin vediamo che Barzon sta faticosamente spingendo la sua vettura perché altrimenti non si riesce a partire per agevolare l'organizzazione, quindi va dato a lui un applauso di anche voler contribuire vedete sono tutti i direttori di gara, Daniele e il responsabile del cronometraggio tutti che danno una mano al pilota, anche questo è un momento di sportività e di condivisione anche delle problematiche, peraltro tecniche quindi per fortuna senza conseguenze di nessun tipo per i piloti che però sicuramente non sono così piacevoli da dover affrontare visto che i piloti sono impegnati in un campionato e ovviamente ci tengono tutti a fare bella figura diciamo pure che Barzon se non altro ha terminato la gara e la vettura si è proprio guastata nel rettilineo dell'arrivo ecco anche la vettura di Marcello Molari amorevolmente custodita dagli amici della Max Racing che salutiamo e fanno un lavoro prezioso, tutta la famiglia Bacchin è impegnata in questo campionato quindi anche dal punto di vista proprio del servizio tecnico di assistenza in pista grazie 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 a tutti.